Milano è il cuore dell'economia dell'Italia. Una città di trasformazione continuata con una produzione che continua a crescere. Con più di 3 milioni di cittadini e 8.000 commutati sarà vivere in un futuro importante per accettare il risultato posato dalla sostenibilità. La mobilità è forse la parte della vita urbana già proiettata nel futuro. Milano, da questo punto di vista, è all'avanguardia perché lo sharing sia legato alle automobili, che legato agli scooter, che legato alle biciclette ha delle percentuali altissime. Questo apre grandi prospettive anche alla mobilità urbana. Io credo che ricuribili tra un sistema di trasporti pubblici efficiente come quello milanese, come quello che diventerà quello milanese con la M4, con la Circle Line e un sistema di sharing diffuso può cambiare il modo di muoversi. Come la mobilità di ogni giorno cambiare la nuova linea? E quali nuove opportunità saranno possibili per Milano quando Linate diventa una città? Una porta che, dalla città di Milano, apre alla resta dell'Europa. La linea 4 è una linea metropolitana interamente in sotterraneo che collega l'estrema periferia ovest della città con l'aeroporto di Linate dove ci troviamo in questo momento, attraversando il centro storico. Per attraversare l'intera linea dalla periferia ovest di Milano per arrivare all'aeroporto di Linate ci vorranno circa 30 minuti, poco più di 30 minuti, mentre in poco più di 10 minuti sarà possibile raggiungere l'aeroporto di Linate dalla stazione di San Babine in pieno centro storico. In questo momento stiamo assemblando la TBM. Una volta completata tutta l'installazione, avremo un gigante di 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 un gigante. gigante di un 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 gig con il traffico di superficie. Nel stesso tempo, come le attività di tunnel, le stazioni stanno anche construite per creare diaframmi, superfici parametriche. Vari diaframmi messi assieme completeranno il perimetro della stazione stessa e a quel punto si provvederà alla realizzazione delle discavi e alla scatola vera e propria della stazione. Qui ci troviamo alla stazione San Babila. Come potete vedere, il cantiere si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato. Per mitigare l'impatto acustico, su tutto il perimetro di cantiere è stato installato un sistema di pannelli fonoassorbenti ed è importante monitorarne l'efficacia. Ecco perché il monitoraggio ambientale prevede una serie di controlli non solo sulla componente ambientale e rumore, ma anche sulla atmosfera, sulle acque sotterranee, sulla vegetazione, sul traffico. I dati di monitoraggio ambientale vengono resi disponibili in una piattaforma informatica a tutti gli addetti ai lavori in tempo reale. Anche l'amministrazione pubblica ha a disposizione questi dati che può a sua volta divulgarli alla cittadinanza. Su molti aspetti Milano è già una metropole allineata con le principali città europee, per esempio sulla raccolta differenziata dove siamo anzi tra i primi in Europa. Questa è la sfida, cioè di una città che prosegue va avanti nel futuro, si modernizza, migliora e qualifica i suoi sistemi di mobilità, ma al contempo non lascia indietro nessuno. Come ha sempre fatto, Milano sa come scegliere innovazione con la generosità social. E' grazie a questa capacità che può vedere positivamente verso il futuro.